Da un'indagine Udicon pubblicata nei giorni scorsi è emerso che le località balneari più care per l'affitto di ombrelloni e lettini in elidi attrezzati fossero Torre Lapillo e San Foca, facendo arrabbiare i gestori dell'idi e i commercianti della zona, in particolar modo i titolari dell'idi Zenzero, Isola dei Briganti, San Basilio, Solero e Marangi. I prezzi, come si poteva leggere in un passaggio interno, fanno sapere, erano riferiti a due lidi annessi a strutture alberghiere che probabilmente hanno fatto lievitare la media complessiva, creando danno di immagine ai cinque lidi rientrati nel calderone del titolo. I cinque lidi menzionati non sono legati a strutture alberghiere e i prezzi sono contenuti ed anche inferiori a quelli di altre località selentine. Ad esempio, per ombrellone e due lettini il costo va da 15 euro nella prima metà di giugno e di 20 euro per la seconda, 25 per la prima metà di luglio e di 30 euro per la seconda metà. Quanto ad agosto, invece, la cifra sale a 40 euro solo per la prima fila, essendo il prezzo delle altre file invece di 35 euro. Non è corretto, quindi, che Udicon tragga tali conclusioni mettendo in allarme i turisti ed inducendoli a non trascorrere le vacanze a San Foca, con evidenti danni a tutta l'economia della località balneare. L'indagine di Udicon incoronava San Cataldo, Marina di Lecce, come la più economica, una generalizzazione che potrebbe quindi non essere la fotografia della realtà. Come in tutte le altre località balneari, ci sono lì di comprezzi più alti e quelli con prezzi più bassi, ma basta saper scegliere per evitare di incorrere in conti salati. La media per l'affitto di ombrellone con due lettini in bassa stagione è di 12 euro, per arrivare a pagare 40 euro in alta stagione in prima fila. Ma ci sono poi stabilimenti balneari nelle marine di Gallipoli, Ugento e Salve, che in alta stagione superano anche i 120 euro per un posto in prima fila. Ma si tratta dei cosiddetti lidi chic, casi isolati quindi, che non dovrebbero essere presi in considerazione, andando poi ad influire sul risultato finale di un'indagine.